Oggi vi voglio mostrare un trading system abbastanza folle su un future folle che tra il 2020 e il 2021 ha fatto una barcata di soldi. Lo commentiamo insieme e cerchiamo di capire un po' gli intrighi di questo trading system. Benvenuti a tutti i signori in questo nuovo video, io sono Francesco Buzza e insegno a fare più soldi con meno click. E vi ricordo l'appuntamento di lunedì prossimo, 13 dicembre alle ore 21, iMigliori30.com, una lezione sul portafoglio, su come scegliere i sistemi, sui sistemi, sui trading system, sui portafogli di trading automatico e in cui vi mostro i miei migliori 30 trading system. Assolutamente un'occasione immancabile. Direi di partire subito dopo la sigla. Questo è il grafico del legname, ebbene sì. C'è un future lumber sul legname che, appunto, è sul legname, esiste il future sul legname, è una materia prima, che a causa di quello che è successo alle catene di approvvigionamento e in generale post-covid e lockdown, al grande aumento del prezzo delle case statunitensi, fatte di carta, voi sapete che le case statunitensi si sono fatte di cartone e di carta, ha avuto un picco clamoroso e una discesa clamorosa appunto tra il 2020 e il 2021. Qua si nota proprio chiaramente che il rame è il rame. Il legname ha avuto prezzi normali, diciamo prezzi normali, fino al 2020. Poi da marzo è semplicemente impazzito, è schizzato, ha fatto delle cose assurde, è un record di oltre 1600 punti, cioè una follia. Ok? Ebbene, io ho un trading system sul legname. Ebbene sì, signori. Vi presento il sistema Frankot sul legname. È un sistema vecchio come il cucco, che ho fatto intorno al 2018. Questa è l'equity line. Come si può notare, il 2020 e il 2021 sono stati particolari. Allora, intanto andiamo a vedere, out of sample, che cosa ha fatto questo sistema. Quindi dal 2018 in poi ha fatto 15.000 dollari, 11.000 dollari, 17.000 dollari e nel 2021 ha fatto 56.000 dollari. Ok? Tutti out of sample. 137.000 dollari, 2 di profit factor, pochi trade e un average trade di 600 abbondanti dollari. Ok? Quindi è un average trade molto, molto, molto marcato. Possiamo vedere un po' gli ultimi trade che sono stati fatti. Sono stati fatti proprio prendendo le grandi discese, i grandi trend. È un trading system che si basa sul COT, che è un indicatore che si usa nel mondo dei futures, si chiama Commitment of Trader, che mostra le posizioni, lo resumo molto, mostra le posizioni dei grandi investitori. Quindi seguendoli noi possiamo cogliere alcuni trend e ha funzionato molto bene. Quindi un sistema che ha fatto 50.000 dollari, e poi tra l'altro è un sistema molto semplice. Quindi il Frankot è praticamente solo motore, ok? Voi sapete che io differenzio le parti di un trading system. Il motore è accessorio, il motore è il cuore del trading system, è ciò che lo regge, ciò che persegue la natura di un future. E il Frankot è praticamente solo motore, quindi è molto puro, molto, molto robusto, no? La domanda risponde, cioè ma perché quindi si ha fatto 56.000 dollari nel 2021, non lo tradi, non l'hai tradato, e non lo traderai, tra l'altro, perché scordatevi che io lo tradi. Bene, è molto, molto semplice. Per rispondere a questa domanda basta applicare due indicatori. Il primo si chiama volume e il secondo si chiama, vediamo se l'ho messa, volatilità, no? Non l'ho mai aggiunto, quindi andiamo a prendere un custom indicatore e andiamo ad applicare la volatilità monetaria. Cioè, quanto si sposta questo future in dollari. Quindi, big point value per range. Big point value è il punto del legname, quindi espresso in dollari, per il range, che è la misura di volatilità, ok? Quindi noi andiamo un pochettino a zoomare e vediamo chiaramente che i volumi sul legname sono ridicoli. Attenzione, siamo a 30 minuti, eh, sopra, ok? Anzi, applichiamolo, applichiamo i volumi al daily. Questo. Applichiamo il volume al daily, ecco qua. Perché così abbiamo i volumi applicati al data 2, che è il daily. Ecco qua, perfetto. Possiamo vedere chiaramente che giorno per giorno i volumi sul rame sono stati 80 contratti. Un giorno addirittura 27 contratti, un giorno addirittura 27 contratti. Round turn. 27 contratti scambiati in tutto il mondo sul legname. Questa è la liquidità del legname. Vi do due alternative. Oro scambia 350.000 contratti al giorno, qualcosa del genere. Ora, sì. Il crude oil scambia 800.000 contratti al giorno. L'SP500 scambia più di un milione. Ok? 27 contratti. In secondo luogo noi abbiamo la volatilità monetaria, quindi quanto si muove giorno per giorno. Evitiamo di andare a prendere il grande trend, la grande discesa. Prendiamo prezzi normali, giorni normali, un lunedì in un ragioniere. Vediamo che si muove di 2.000 dollari. Una media di 2.000, 3.000, 4.000 dollari, ma poi tocca anche i 6.500 dollari. 6.500 dollari. Qua 8.000 dollari. Ok? Quindi, l'equilibrio è tra 20, 30, 50, 100 contratti al giorno scambiati sul rame, in rapporto a un movimento giornaliero, cioè letteralmente quanto si muove questo future, al giorno enorme. Più alto del DAX. Più alto del DAX. È un movimento assurdo. Un movimento assurdo vuol dire che se tu sei nella direzione giusta, sono soldi che tu puoi guadagnare. Se tu sei nella direzione sbagliata, sono soldi che tu puoi perdere. Cioè puoi perdere 7.000 dollari al giorno. So se vi è chiaro. Vi dirò una cosa. Io in passato l'ho tradato live questo sistema. Ebbene sì. L'ho tradato live, ero inesperto, diciamo così, volevo un po' rischiare. Sapete cosa mi è successo? Ho aperto il contratto e non sono riuscito a chiuderlo. Perché non c'era una controparte. Non c'era una controparte, quindi io sono andato in stop di oltre 3.000 euro. Qua lo stop sul sistema è 1.750 dollari e ho fatto uno stop di oltre 3.000 euro. Quindi è molto, molto, molto rischioso questo sistema. Ebbene sì, non tutti i sistemi sono tradabili allo stesso modo. Se ho un sistema daily, breakout, trend following, su il corn, è diverso da un sistema sul legname. Ok? Indipendentemente da come vado a selezionare queste performance. 50.000 dollari nel 2021 abbiamo visto. Sono meglio di 15.000 dollari nel 2021 sul corn? Da cosa lo deduciamo? Quindi noi prendiamo il net profit di un contratto che si muove 7, 8, 10.000 dollari al giorno e lo paragoniamo a un net profit di un contratto che si muove di 300 dollari al giorno. Il corn si muove di 300 dollari al giorno. Sulla bilancia vale di più il 15.000 dollari del corn nel 2021, perché si muove molto poco, rispetto ai 50.000 dollari del legname. Quindi quando noi andiamo a scegliere i migliori trading system da andare a tradare live, non possiamo tenerci solo a net profit. Assolutamente no. Non funziona così. Noi dobbiamo anche considerare la volatilità monetaria, che sul legname è folle, e l'abbiamo visto qua. Abbiamo dei picchi da... Voglio togliermi proprio lo sfizio di vedere questo picco di 13.860 dollari in una follia, con una liquidità incredibilmente bassa. Quindi, devo contemplare, uno, net profit, due, volatilità monetaria, tre, drawdown. Perché se questo adesso va in drawdown, magari di 20.000 dollari, di 15.000 dollari, che è abbastanza normale per un sistema, li fa in due giorni. 15.000 dollari di 13.000 dollari sul corn, li fa in sei mesi, perché si muove molto poco. Ok? Quindi, evitiamo di guardare solo net profit, evitiamo di guardare solo le equity line, quelle... Sì, faccio un sistema, guardo le equity line, sono molto belle, le pubblico su Facebook, magari mi faccio un pochino figo, e via, è finita. No! C'è molto di più, e ci deve essere molto di più. Questo trading system è tradabile o no? Poi, dopo, in seguito, vengono tutti i discorsi del, è tradabile o no, nel mio portafoglio. Questo è un altro discorso ancora, lo vediamo lunedì 13. Va bene. Ma prima ancora di arrivare a quella considerazione, dobbiamo vedere se questo è tradabile in generale, in senso assoluto. No, non lo è, perché l'ho costruito, era un esercizio, è un sistema che funziona molto bene. Il Frankot l'ho utilizzato anche su molti altri sistemi, e volevo vedere come funzionasse il legnane. Ok? Ma non si può tradare live. Potenzialmente sì, a fronte di rischi pazzeschi. Ok? Quindi quando andiamo a scegliere un trading system da tradare live, non possiamo accontentarci di net profit, noi dobbiamo dedicarne la tradabilità in virtù di altri fattori, che andiamo proprio a vedere nei dettagli, andiamo a vedere il BuzzFactor, lunedì 13 dicembre alle ore 21, mi raccomando. Non potete mancare, io direi che questo video abbiamo finito. A domani per un nuovo video, e mi raccomando iscrivetevi ai migliori30.com a domani per un nuovo video. Ok? Ok?